Allora, mi hai fatto due domande. La prima è il zettel, il senso di questa operazione. Dal punto di vista cronachistico, l'idea è stata di Maurizio e Maurizio Ferraris, che è un vulcano naturalmente, quindi c'è un'infinità di idee, e Gino Roncaia, che è un altro vulcano. È un nostro amico accademico che però anche collabora con la RAI, e molti dei migliori programmi che la RAI ha creato negli ultimi anni dal punto di vista culturale vengono dalla mente fervida di Gino Roncaia. Insieme hanno pensato di mettere assieme un programma che discutesse di filosofia, ma con l'intento di tenere un livello decente dal punto di vista concettuale, a livello della professionalità e del rigore minimo che ci vuole anche quando si fa le cose in televisione, e appunto allo stesso tempo però non volevano che fosse una trasmissione straziante, terrificante, noiosissima, come talora capita con le trasmissioni culturali. E hanno coinvolto subito me e Achille Varzi, che appunto è a Columbia University, quindi Achille fino ad ora ha partecipato con dei video registrati a New York, mentre io e Maurizio e molti altri ospiti abbiamo, generalmente giriamo a Napoli, nel bellissimo Museo della Scienza. Il regista è Piccio Raffanini, che è una specie di genio della televisione, e che è riuscito, credo, in effetti a tirare fuori da me, da Maurizio e dagli altri qualcosa di minimamente decente dal punto di vista televisivo, quando noi, soprattutto io, eravamo del tutto all'oscuro. Non è facile, perché non ho mai fatto televisione. Tu sei lì, con questa una, due, tre telecamere, con questa luce in faccia, e tutta la gente che sullo sfondo si aggira oscuramente, tutti i tecnici sono lì nell'ombra, e tu parli, devi guardando questo occhio, occhio vitrio della telecamera, devi muovere la testa nei momenti giusti, alternando, ecco, se ci fosse una telecamera là, guarderei là, poi guardi qua, e poi devi camminare nelle posizioni giuste, devi fare, devi muoverti in un certo modo, devi parlare con un certo ritmo, eccetera, 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 evitando possibilmente di dire troppe fesserie. Quindi la cosa non è tanto facile, rivedendo le trasmissioni, mi pare che più o meno siamo nella... non ce n'è nessuna che è terribile, qualcuna è venuta meglio, qualcuna è venuta peggio, ma mi pare che il progetto di tenere insieme uno spettacolo gradevole dal punto di vista televisivo, con la comunicazione di contenuti filosofici destinati soprattutto a stimolare la curiosità delle persone, sia riuscita. Abbiamo coinvolto in questa impresa molti amici e molti altri, se continueremo l'operazione, vorremmo coinvolgerne, perché vogliamo farne un po' una palestra della filosofia in Italia, una palestra destinata al grande pubblico, agli studenti, al grande pubblico, a chi ha degli interessi filosofici, anche se non è strettamente del mestiere, o non lo è ancora. È un'operazione divertente, noi ci prepariamo, interagiamo io e Maurizio anche con Achille, prepariamo, soprattutto Maurizio, ma anche noi prepariamo le sceneggiature, poi ci presentiamo a Napoli, registriamo generalmente più di una, due, tre, anche quattro puntate, segmenti di puntate nello stesso giorno, perché appunto poi ogni puntata è solo mezz'ora, insomma, e anche c'è un po' di improvvisazione ovviamente, nel senso che diverrebbe straziante se ci presentassimo con dei discorsetti scritti o delle cose imparate a memoria. Quindi improvvisiamo, cerchiamo anche di fare delle battute, qualche volta fanno addirittura ridere, e quindi noi di questo siamo soddisfatti. Soprattutto siamo, io credo che sia importante questo, secondo me la filosofia deve veramente tenere un doppio registro, livello accademico, quanto possibile rigoroso, in Italia stiamo facendo dei passi avanti, credo, la filosofia italiana è più, che tradizionalmente non aveva un grande peso teorico, era più attenta alla storiografia, fatta molto bene, ma meno all'aspetto teorico della filosofia, negli ultimi vent'anni questo aspetto più teorico, teoretico, si è risvegliato, e quindi questo è giusto, è giusto che l'Italia partecipi al dibattito internazionale, con gli standard internazionali, non solo dal punto di vista storiografico, ma anche strettamente filosofico. Però allo stesso tempo credo che sia anche importante dare voce alla filosofia anche nel dibattito pubblico. Io credo onestamente, naturalmente posso essere molto di parte, che la filosofia possa contribuire alla salute culturale e alla chiarificazione mentale del dibattito pubblico, possa contribuire a che le persone siano più consapevoli di che cosa li circonda, che i dibattiti si svolgano con criteri più interessanti riguardino temi anche di livello possibilmente alto. Insomma, credo che la filosofia in Italia debba aprirsi ancora di più al dibattito pubblico, soprattutto nelle inespressioni che sono rimaste un po' minoritarie. Per esempio in Italia c'è, appunto, moltissimi fanno storia della filosofia, anche la divulgazione è basata su cosa ha veramente detto Aristotele, cosa ha veramente detto Platone, o cosa ha veramente detto Gentile. Secondo me bisogna andare avanti, bisogna cercare di usare queste categorie per discutere dei problemi che ci stanno più a cuore. E questo può essere fatto anche suscitando curiosità nelle persone, come facciamo con Zettel, in cui parliamo sostanzialmente di temi importanti, dal senso della vita al libero arbitrio, dai temi come la guerra alle questioni morali, da questioni più strettamente epistemologiche e metafisiche, che però possono essere rilevanti a questioni, per esempio, bioetiche. Naturalmente cerchiamo di essere ecumenici, ognuno di noi ha le sue opinioni, come è peraltro ben noto, come è ovvio, però cerchiamo anche di dare conto delle posizioni diverse. Ma tanto la questione non è di comunicare tessi, di convincere le persone, ma di stimolare, ha un po' di curiosità intellettuale, tutta l'ora c'è anche un po' di dibattito, c'è un ottimo sito, il sito di Rai Scuola, ha una sezione dedicata alla filosofia, in cui il dibattito è molto molto interessante, spesso e volentieri, molto partecipato, ci sono quasi 5.000 iscritti, ed è specie in occasione delle puntate di Zettel, ci sono dei dibattiti che vengono moderati da giovani esperti, che fanno un ottimo lavoro, e io ogni tanto cerco di partecipare, o perlomeno di leggere quello che succede, e mi pare che c'è veramente molto riscontro. Insomma, al mio modesto modo di vedere, Zettel è un esperimento molto positivo, francamente credo possiamo ancora migliorare, se continueremo lo faremo, ma credo che ci sia già un buon livello, non solo, peraltro forse nemmeno per merito nostro, ma la struttura che ci accompagna è veramente ottima, c'è veramente buona volontà da parte di tutti quelli che lavorano a questa trasmissione, io soltanto, devo dire, fondamentalmente mi diverto, mi piace, mi diverte, e penso anche che abbia una piccola utilità. Quindi, questo relativamente alla questione di Zettel. Allora, la seconda domanda che mai fatto riguarda il nuovo realismo. Nuovo realismo, due parole, vediamo di analizzarle. Innanzitutto la questione di nuovo che ha suscitato qualche perplessità, per esempio in un articolo sulla stampa, Gianni Vattimo ha recentemente scritto che, secondo lui, in verità, non c'è niente di nuovo nel nuovo realismo. Qualche caso, naturalmente, questo è vero, in un certo senso è vero per tutti, è vero che la storia del dibattito sul realismo in filosofia è antichissima, e che, come sempre capita con i dibattiti antichissimi in filosofia, ci sono delle costanti, non c'è nessun dubbio, tant'è che nel dibattito attuale sul realismo si parla ovviamente anche di Aristotele e Platone, della disputa sugli universali, o del realismo empirico di Cante, che naturalmente Cante coniugava con l'idealismo trascendentale, e così via. Ma è anche vero che ci sono moltissime questioni nuove. Un po' buffo poi, a dire la verità, Vattimo diceva, per esempio, che lo stesso Patram ha riconosciuto che la sua è una questione vecchia, la sua è una vecchia posizione. Appunto, lo ha detto in questo senso, ma non l'ha detto e non lo direbbe mai, anzi, l'ha contraddetto rispetto al fatto che, data la continuità della discussione sul realismo, non ci siano fattori molto importanti e nuovi, nuove posizioni realiste nel mondo. Perché il nuovo realismo significa un'etichetta che Maurizio ha inventato, ma che si riferisce alla rinascita delle posizioni sostanzialmente realiste o tendenzialmente realiste in molti dibattiti, sia in filosofia analitica, sia in filosofia continentale. È indubbio che questo fenomeno sia accaduto. Bisogna, cioè che ci sia, vent'anni dopo, un libro come quello di Michael David, dedicato appunto alla visione del realismo, in cui lui stesso diceva che qui sono tutti antirealisti, e che vent'anni dopo, si potrebbe dire che la maggior parte dei filosofi che si occupano di queste questioni tende al realismo. Soprattutto in ambito analitico, ma anche in ambito continentale ci sono molti filosofi realisti. Non è il vecchio realismo, anche se appunto ci sono elementi di continuità, perché soprattutto viene dopo un'epoca di antirealismo, sia in ambito analitico, sia in ambito continentale. Il pensiero postmoderno, tanto per dire, non è stata una sciocchezza, non è stata una bagatella, è stata una cosa molto importante, un tentativo di rispondere a aporie fortissime che c'erano nel realismo tradizionale, nel realismo che supponeva, come appunto ha scritto Patton, ma che in qualche modo si potesse dare una visione complessiva della realtà in modo unitario, come se ci fosse là fuori qualcosa di completamente definito nei dettagli, e che si trattasse soltanto dal punto di vista almeno filosofico di coglierlo in un quadro unitario. Ecco, questo effettivamente è qualcosa che è oggi molto meno diffuso, sebbene non manchino filosofi che ancora tendono a questa visione, appunto che Patton ha chiamato di realismo metafisico, totalizzante. L'antirealismo in generale, anche il postmoderno, anche il pensiero debole, hanno contestato questa visione, hanno fatto bene, hanno dato argomenti importanti. Quindi il nuovo realismo risorge dopo questa polemica forte contro il realismo metafisico, recuperando in parte alcune delle istanze realiste, ma alla luce delle critiche fondate che erano mosse al realismo metafisico. Quindi è una forma di realismo che non sarebbe stata possibile senza la reazione antirealista. E appunto ha dovuto elaborare argomenti e sostanziare proposte che non si prestassero alle stesse obiezioni. Secondo me non si prestano in buona misura a quelle obiezioni. Cioè il nuovo realismo non si presta alle obiezioni che erano state mosse contro il realismo metafisico, quello più tradizionale. Non si presta quelle obiezioni, anche se naturalmente i problemi aperti sono immensi e si potrebbe prestare altre obiezioni molto anche decisive. Può essere, benissimo. Quello che non si può dire è che non sia nuovo in un modo importante. Basta guardare per esempio la filosofia di Patram, ma non solo di lui, di molti autori che si chiamano realisti e che appunto tendono a articolare una visione della realtà in cui i fattori di realismo e antirealismo sono saltamente coniugati. Nessun filosofo è interamente realista. Nemmeno Meinung. Nessuno è interamente realista e nessuno è interamente antirealista. Barclay credeva, essendo totalmente antirealista rispetto alla materia, credeva però fortissimamente nella mente, in particolare nella mente divina, nel mentale, e per cui era realista a suo modo. Quindi i filosofi sono più o meno realisti, più o meno antirealisti, sia in generale, sia rispetto ai problemi particolari. Molti, per esempio, filosofi realisti contemporanei sono antirealisti rispetto alla morale. Io non simpatizzo per questa visione, però è una posizione che si può fare. O molti che sono antirealisti in molti ambiti sono realisti, per esempio, rispetto alla matematica, all'esistenza delle entità matematiche. Bisogna poi distinguere tra il realismo ontologico e il realismo semantico. E forse c'è anche un realismo epistemologico. Cioè quindi il primo riguarda la realtà, la seconda riguarda il modo in cui il linguaggio si riporta al mondo e il ter, quindi il realismo più metafisico riguarda il mondo, ontologico riguarda l'esistenza degli enti al di fuori della mente e l'indipendenza di questi enti al di fuori della mente. Il realismo semantico riguarda il rapporto tra linguaggio e mondo, appunto, se come il linguaggio rispecchi il mondo. E il realismo epistemologico riguarda la nostra possibilità di conoscere la realtà. Sono un'incredibile complessità di temi che appunto si sviluppano in una miriade di diverse direzioni. Io credo che quello che veramente fa questa rinascita del realismo, il nuovo realismo, è di rimettere in gioco appunto la coppia realismo-antirealismo. Non esistono più soluzioni facili, tipo quella che c'era prima, prima dell'antirealismo, quella che diceva la realtà è là fuori, la dobbiamo conoscere, e questo isomorfismo è tutto ciò che dobbiamo perseguire. Oppure neppure le formule dell'antirealismo, del postmoderno, esistono solo le interpretazioni, non ci sono fatti. Queste sono due visioni estremamente radicali e secondo me il realismo è una sorta di sintesi. Nel senso, il nuovo realismo è una sorta di sintesi, nel senso che si tratta di riconciliare l'atteggiamento costruttivo verso le realtà, nel senso che dobbiamo chiedersi rispetto a certi fenomeni se sono reali o meno, se abbiamo possibilità di conoscerli o meno, se il nostro linguaggio ne può parlare o meno, e questo dipende dalle questioni, personalmente per esempio tendo a essere realista in molti ambiti ma meno in altri e certamente rispetto a certi fenomeni sociali per esempio io tendo ad essere realista, penso che esista qualcosa, entità che sono per esempio le multinazionali e che dunque per questo si possano considerare queste entità responsabili per certe azioni, alcuni lo negano, è un dibattito con grandi implicazioni, filosofia della scienza si discute moltissimo sull'esistenza delle entità inosservabili, questo è un tema formidabile, in teoria della medicina, filosofia della medicina si discute sull'esistenza o meno di certe malattie, esistono le malattie, alcune malattie, per esempio le malattie mentali, nel DSM che è il grande manuale della psichiatria mondiale è stato molto dibattuto se continuare a mantenere per esempio le voci riguardanti i cosiddetti disturbi puramente psichici su cui non si hanno, di cui non si ha notizia di correlati specifici neurali, cioè da un punto di vista riduzionistico si è ritenuto che se una malattia tradizionalmente considerata malattia psichica, per esempio l'isterio o la meganomania o il narcisismo, ecco se non hanno corrispettivi neurali allora non sono malattie, c'è stato un forte dibattito e per esempio si è ritenuto che nella prossima edizione, la quinta edizione del DSM ci sarà ancora una voce legata al narcisismo anche se questa malattia che appunto dal punto di vista comportamentale secondo me ha una solida realtà, ognuno conosce qualcuno che è narcisista, forse in qualche misura come molti di queste malattie psiche un po' in tutti c'è il germe del narcisismo, certamente alcuni lo hanno molto sviluppato e continuiamo a chiamare una malattia anche se non si sa quali ne siano i correlati neurali. Questo è un dibattito, ce ne sono un'infinità in filosofia morale anche naturalmente la questione è di questo tipo e si intreccia con la questione relativismo-antirelativismo. C'è una montagna di discussioni che si possono fare sul realismo ma nessuna è tale che si debba assumere acriticamente l'esistenza della realtà o la possibilità di perseguire la verità o che esistano verità di un unico tipo che spiegano tutto per esempio che la fisica possa spiegare tutto in linea di principio o la metafisica o la religione sono visioni controverse e secondo me anche erronee e più articolata la realtà ovviamente. Un'ultima cosa il nesso tra storia della filosofia e riflessione filosofica teorica su questi temi è molto saldo in Italia si tende purtroppo a privilegiare eccessivamente secondo me l'idea che la filosofia sostanzialmente sia una disciplina morte e per cui vado a studiare come si studia l'astrologia oppure la poesia epica un fenomeno ormai estinto e quindi andiamo a vedere che cosa veramente pensavano Aristotele, Platone, Kant o Croce. Bene, io credo che se questi filosofi esistessero oggi fossero ancora vivi non farebbero così cercherebbero di rispondere ai problemi che si pongono oggi a chi fa filosofia o chi si pone criticamente rispetto alla realtà. Croce non studierebbe Croce non studierebbe Kant ma cercherebbe cioè li studierebbe in funzione dei problemi che ha oggi la filosofia va usata per affrontare i problemi del reale viceversa devo dire nei paesi anglosassoni soprattutto negli Stati Uniti spesso c'è punto di vista opposto per cui la storia della filosofia non importa così come la storia della scienza non importa Whitehead scrisse che una scienza che non si dimentica dei suoi fondatori è persa ecco qui talora io parlo da Boston adesso talora c'è questo atteggiamento anche verso la filosofia che serve parlare dei grandi parliamo dei problemi di oggi beh serve perché la filosofia non è la scienza anche se secondo me per molti aspetti è contigua la scienza ma assolutamente ci sono anche dei credo dei momenti in cui la filosofia è autonoma bene comunque non è come la scienza anche se è vicina in molti casi perché appunto è un pensiere critico un pensiero di chiarificazione più che di soluzione di proposizione di risposte definite unive o che unitarie anzi avere un problema filosofico trova risposta ipso facto non viene più considerato filosofico non è casomai diventa appannaggio della scienza o del senso comune ma non più della filosofia la filosofia è un sapere critico che consiste sostanzialmente nel farsi le domande giuste nell'affinarle sempre di più è la fine probabilmente morte in diretta come Mishima e quello che volevo dire prima di questo terribile momento è che la filosofia a differenza della scienza è un sapere critico che cerca di affinare la comprensione dei problemi in questo senso secondo me non è neanche vero che la filosofia non fa progressi li fa e come li fa nella chiarificazione dei propri problemi noi rispetto a problemi come l'esistenza delle entità inosservabili abbiamo le idee molto più chiare di quanto non ce l'avessero soltanto cento anni fa sia dal punto di vista empirico ma anche dal punto di vista concettuale o questioni come la famosa disputa sugli universali è viva ancora perché è il problema delle proprietà bene qui le teorie si sono molto affinate gli argomenti sono molto più sofisticati argomenti critici o positivi quindi la discussione ha fatto dei passi avanti e questo non si può ignorare per questo non si può dire che gli antichi rispondessero esattamente alle domande a cui rispondiamo noi per questo non si può usare direttamente prendere di peso Aristotele o Platone ma bisogna usare ciò che hanno detto per cercare di appunto affrontare i problemi che noi abbiamo presenti oggi e con ciò sia cosa che vi saluto per cercare di appunto per cercare di appunto per cercare di appunto